Non era assolutamente facile perché loro si sono chiusi tutta la partita e noi abbiamo avuto calma, abbiamo cercato insomma in tutte le maniere all'inizio sembrava non volesse entrare veramente, però insomma alla fine siamo stati premiati. Quanta soddisfazione, quanta gioia al momento del gol di Bramante, ve lo siete proprio gustati? Tantissima, perché è stata una partita, non so che minuto l'ha fatto verso la fine, ma è stata una partita tosta. 85 resti? Eh, pochi minuti dalla fine, sì, quindi... Un po' più bella. Sei vittorie consecutive, un dato anche storico per l'Arezzo, il primato in classifica ha confermato e ovviamente saranno sempre forse di più le partite così? Eh, ci sta, ci sta, saranno tante partite così e sì, sei vittorie contenti, però noi vogliamo vincere tutte. La difesa anche oggi non ha concesso praticamente niente, un'altra partita senza gol subiti, però guardando nella costruzione, forse in certe fasi è mancato un po' di quella brillantezza a cui ci avevate abituato, nel trovare appunto gli spazi? Beh, sicuramente c'erano meno spazi, perché fino a metà campo portavi la palla e poi erano tutti là, quindi era più una partita di calma, far girare il pallone e trovare lo spazio con calma. Adesso c'è la gustarsela, ma domenica prossima è un'altra grande partita. Eh, no, si riparte domenica. Grazie.